Caterina Bosetti è il termine d'Italia-Belgio, è andata male e si va ai playoff? Sì, abbiamo giocato male a Trassi, abbiamo fatto vedere anche un gioco in certe cose, però non è bastato, loro hanno giocato costante tutta la partita e hanno meritato di vincere comunque. Martedì in campo con la Polonia, cosa ci aspetta? Beh, è una partita importante perché è un dentro fuori, che adesso iniziano ad essere così e dobbiamo dare tutto perché se no possiamo perdere tutto più.